Ehi! Entra! Dai! Siete qui di fronte a me. Ho un sacco di spazio nella mia tenda. Allora, come si sta fuori? Hai iniziato a fare un po' fresco, vero? Lo so, però è una notte bellissima. Il cielo è limpido, si vedono un sacco di stelle. E mi sembra anche che l'acqua sia abbastanza calda. C'è un bel toffo di mezza volta. Tra un po' noi e gli altri sono ancora intanti a cantare. Beh, il salò è appena iniziato in effetti. Ha solo la canzone del sole, che strano. No, scherzo. È un classico. E tu? Ti stavi annoiando? No, io sono venuta qui a rilassarmi un po', ma dopo esco. Torno a stare con gli altri. Anche perché voglio assolutamente vedere le stelle cadenti. Tu ne hai vista qualcuna? Che fortuna. Ancora no. Questa sera ho almeno un desiderio da esprimere. Vorrei tanto che si avverasse. Com'è? Questo. Questo è un bracciale fatto di conchiglie. Le ho raccolte io sulla spiaggia. Ti piace? Vuoi vederlo? D'accordo. Eccolo. 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 E poi si intona con la mia collana. Anche questa è fatta di conchiglie. Un outfit molto estivo. E poi ho portato il mio telo per la spiaggia. E qui nella te hanno messo un paio di cuscini. Giusto per stare più comodi. Nel caso volessimo straiarci. E rilassarci un po'. Sì sì. Infatti. Vuoi vedere cosa c'è nella mia borsa da mare? Ecco. La mia borsa da mare. E' questa. C'è scritto Peach Essentials. Le cose essenziali. Da portare in spiaggia insomma. Non so se ho messo davvero tutto l'essenziale. Per stasera. Allora. Allora. Costume di ricambio. Con pappagalli colorati. Le faroffalle. Sui toni del blu, del verde, del rosso e del foxy. Questo mi servirà dopo. Quando andrò a fare il bagno di mezzanotte. Poi cos'altro? No. Il mio ventaglio. Il mio fedele amico. Immancabile. Però. Dice accesibile. Anche se. Crea. In vero. Stasera. Non sento molto caldo. Grazie cos'altro? ah questo potrà esserci utile lo spray anti zanzare io ne ho già messo un bel po' si aspetta vediamo si direi che posso andare bene la profumazione dice? no è abbastanza gradevole in realtà molto neutro non interferisci assolutamente con il profumo che stai portando e con quello che porto io a proposito ti piace il mio? senti? dopo te lo mostro mettiamo un po' di questo ok avvicinati te lo vaporizzo sulle caviglie hai i pantaloni corti? hai i pantaloni corti? ok poi vediamo un po' ti avevo detto che ti avrei mostrato come profumo preparati lo porto sempre con me in testate ovunque che profumo al monoi e si chiama monoi da Haiti il monoi è questo fiorellino qui in bianco guarda la confezione è veramente carina dentro vetro azzurra ne metto un po' wow ti piace? eh lo so questo l'ho comprato al supermercato in realtà si trova un po' qui comunque un'altra cosa è la mia borsa che credo proprio possa esserci utile patuffoli di cotone beh io ne utilizzerò una per struccarmi prima di uscire per fare il bagno vuoi che ti aiuti a pulire il viso? ok allora ci servirà anche questo 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 è un detergente struccante special waterproof ecco qui con acqua di lavanda con acqua di lavanda olio di goob e rosa mi piace molto il suono che produce il liquido quando viene agitato nella boccetta allora ne verso un po' sul patuffolo avvicinati ecco così perfetto togliamo tutto lo sporco della giornata qui c'è un po' di sabbia ok un po' qui perfetto adesso è pulitissimo e in ultimo ho portato un libro un libro di poesie illustrato e si chiama due che si amano ottimismo sull'amore con all'essi e connessi dopo se vuoi posso leggerti qualche poesia prima di andare a dormire ti va? sarebbe bello se dormissimo tutte e due nella mia tempo eccomi ti ho detto lo spazio c'è e ho anche messo due coscine per stare comodi vuoi vedere le illustrazioni? ecco ti piacciono? in questo in questa poesia si ha sentito stelle stelle o stelle fiaccole chiare nella notte infinita stelle da sbogliare come una margherita dopo allora vai ma si sarà rilassante che ne pensi usciamo con gli altri? a coderci il falò ok però prima voglio fare una piccola cosa non so a te ma la sabbia a me rende le mani un po' secche e così porto sempre con me un olio un olio da massaggio per il corpo e per le mani mi basta davvero una cotta e le mie mani tornano di nuovo un po' morbide vuoi un po' sul viso? senti che buon profumo che ha sa proprio in estate allora andiamo fuori con gli altri prima tu però aspettami fuori arrivo grazie a tutti grazie a tutti